Sull'inchiesta avviata dalla procura di Messina sulla morte dei tre marittimi della Sansovino sembrava fosse calato il silenzio, ma adesso qualcosa si muove. Caronte e turisti, isole minori e cinque imputati dovranno comparire il prossimo 18 giugno davanti al giudice, fissata all'udienza preliminare. L'accusa è di omicidio colposo e violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e nel sfredamento di operazioni portuali. L'inchiesta coinvolge Luigi Genchi, amministratore delegato della compagnia di draghettamento, Salvatore Virzi, comandante della nave, Domenico Cicciò, ispettore tecnico della società di navigazione messinese, Fortunato De Falco, direttore di macchina, Giosuè Agrillo, della società di controllo e verifica della corretta attuazione delle procedure previste dal manuale di gestione della sicurezza a bordo. Tra questi anche Vincenzo Franza, in qualità di legale rappresentante di Caronte e turisti, isole minori, a richiedere rinvio a giudizio ai pubblici ministeri della procura di Messina, Federica Rende, Marco Acolle e Roberto Conte. C'è ancora molto da chiarire su quel tragico pomeriggio del 29 novembre 2016, quando il primo ufficiale, Cristian Micalizzi, 38 anni di Messina, il secondo ufficiale, Gaetano D'Ambra, 29 anni di Lipari, il motorista Santo Parisi, 51 anni di Terrassini, hanno perso la vita mentre erano intenti ad eseguire alcuni interventi di manutenzione a bordo del traghetto ormeggiato al monore Orimberga. L'attenzione della magistratura si concentra proprio sul mancato rispetto delle norme di sicurezza previste per queste procedure.